Carpanetto 1922, sfidare la primavera del Sassuolo. Sassuolo a primavera, con il numero 1 Turati, con il numero 2 Agnelli, con il numero 3 Merli, con il numero 4 Artioli, con il numero 5 Timo, con il numero 6 De Baccai, con il numero 7 Carrozza, con il numero 8 Ametai, con il numero 9 Mattioli, con il numero 10 Bartoli, con il numero 11 Giordano. A disposizione con il numero 12 Pasolino, con il numero 13 Castelluzzo, con il numero 14 Bellucci, con il numero 15 Aurelio, con il numero 16 Fiorini, con il numero 17 Solla, con il numero 18 Viero, con il numero 19 Manzari, con il numero 20 Colai, con il numero 21 Cubellini, con il numero 23 Pellegrini. Allena il signor Stefano Morrone. Vigor Campaneto 1922, con il numero 1 Terzi, con il numero 2 Rossini, con il numero 3 Favari, con il numero 4 Mastro Totaro, con il numero 5 Furlotti, con il numero 6 Paschirotto, con il numero 7 Odianose, con il numero 8 Rossi, con il numero 9 Randier, con il numero 10 Mauri, con il numero 11 Rizzitelli, a disposizione con il numero 12 Valger, con il numero 13 Barba, con il numero 14 Bolini, con il numero 15 Carisetti, con il numero 16 Avanzini, con il numero 17 Metti, con il numero 18 Piav, con il numero 19 Zito, con il numero 20 Burgazzoli, con il numero 21 Sing, 15 Arbitro al signor Guglieri di Lodi. Sportivi, buon divertimento. Buon divertimento. Buon divertimento. no no si 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 no perchè consuma no per quello se c'è la diarezza se lei lì pronta poi io ti posso mandare lì ti porta la guarda come vuoi invece no si si eh ma anche lì dopo io la vedo cioè non la non la pubblico ma non lo devi mandare però non devi andare però nel senso che poi la lega prendi da non riesco da cioè poi vederla non riesco da ah si si no ti do il link da andarla a vedere si si esatto si no no ma 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 Grazie. 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 La Vigor si porta in vantaggio con il numero 7, Odianose, Vigor 1, Sassuolo 0. Quante passate? Quante passate? Quindi 20 al ventesimo? La Vigor si porta in vantaggio con il numero 7, Odianose, Vigor 1, Sassuolo 0. La Vigor si porta in vantaggio con il numero 7, Odianose, Vigor 1, Sassuolo 0. La Vigor si porta in vantaggio con il numero 7, Odianose, Vigor 1, Sassuolo 0. La Vigor si porta in vantaggio con il numero 7, Odianose, Vigor 1, Sassuolo 0. La Vigor si porta in vantaggio con il numero 8, Odiano, Vigor 1, Sassuolo 0. Grazie a tutti. 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 La Vigor si porta sul 2-0 con Julien Rantier. Vigor 2-0. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.